Il mio viaggio in quella che speriamo non sia la città degli ultimi veneziani sta per finire. E se posso finalmente vantarmi di aver mangiato, ma soprattutto pagato, come un residente, non ho ancora finito le storie da raccontare. La serendipità è la capacità di fare per caso scoperte felici. Ma qualcuno alla giudecca vuole fermare l'esodo rendendo la fantastica sensazione di una fortuna inaspettata, qualcosa di sistemico e ricorrente. Col finire la mia carriera accademica ho pensato di fare qualcosa di più concreto per la città, quindi non solo studiarla, e ho fondato Serendipity per creare start-up a Venezia e ripopolarla attraverso il lavoro. Questa Venezia che vediamo è il frutto di grandi operazioni commerciali ad alto rischio. Le start-up sono ad alto rischio, sotto certi punti di vista, ma anche potenziale alto ritorno. Quindi un po' torniamo alle origini. Venezia è quella che è, tutti questi palazzi, perché qua c'era come se fossero tutti i Bill Gates, i Bezos e il Elon Musk del mondo, tutti qua a Venezia per centinaia di anni. Con quello si costruisce una città come Venezia. Quindi il nostro è un tentativo, un po' in extremis, diciamo, di recuperare il tempo perduto e di far sì che Venezia possa diventare una capitale delle start-up. E qua, da quanto ci dice il direttore Ghilad, queste start-up che vede qui, e ne vede tante lui all'anno, sono tra le migliori. I think some people think, well, Venice is finished, that's it. You come here, whatever was done in history, we just preserve it. But the world doesn't work that way. No city in the world is ever finished. If it is, then it's become, it's Pompei. There's a lot of innovation that took place here. And I think if we understand that Venice is a place for innovation, not just a place for history, then I think we're, we can look to Venice for solutions to the future. Io sono un veneziano, doc. Sono nato a Venezia. Cresciuto a Sant'Ellen, dove c'è lo stadio del Venezia. Gente come me che magari anche dei collegamenti non da poco, tipo con l'MIT, eccetera, può cercare di fare qualcosa. È una cosa che uno si crea, la serendipità. Cioè, non è che raccogli per pura fortuna dei risultati, ma li semini e poi li raccogli più tardi. Forse non è un caso che serendipità derivi da serendippo, il re protagonista di una storia che un anonimo armeno avrebbe dato alle stampe proprio qui. Venezia più di 100.000 probabilmente non riesce a tenere al giorno d'oggi. Raddoppiare la popolazione potrebbe essere plausibile. Ci vorranno circa 20 anni, secondo me. Di tutte le persone del mondo, sicuramente 50.000 riusciamo a trovarle che verrebbero volentieri a lavorare qua. Non credo sia un problema. No, non credo sia un problema. Chi7 era un problema, non credo sia un problema. Grazie.